I 404 comuni calabresi hanno meno di un mese per formalizzare la loro adesione all'ARICAL, Autorità di Fiuto e Risorse Idriche della Calabria, altrimenti la Regione eserciterà i poteri sostitutivi previsti dalla legge. E questo è il succo della comunicazione urgente inviata lo scorso 10 novembre dal Dipartimento Ambiente a tutti i sindaci della Regione che dal momento in cui l'hanno ricevuta, hanno 30 giorni per far approvare in Consiglio Comunale la delibera di adesione all'autorità guidata dal commissario straordinario Bruno Gualtieri. Istituita con la legge regionale del 20 aprile di quest'anno, l'ARICAL è l'ente di governo dell'ambito territoriale regionale, sia per il servizio idrico che per i rifiuti. Il primo dei due settori era prima appannaggio dell'ARIC, Autorità Idrica Calabrese, per cui la legge ha disposto la soppressione con la nomina del commissario, mentre il secondo era gestito dai cinque ato provinciali, che invece sono ancora operativi, pur essendo già trascorso il periodo transitorio inizialmente fissato in sei mesi. Sono le leggi nazionali in materia di gestione dei servizi pubblici locali, i decreti legge 152, 2006 e 38-2011, che gli enti locali debbano partecipare obbligatoriamente agli enti di governo d'ambito entro 60 giorni dalla loro Costituzione. Essendo dunque ormai trascorso questo termine, la Regione ha inviato la diffida a tutti i comuni, allegando anche uno schema tipo della delibera da approvare per formalizzare l'adesione. Di recente, l'ARICAL ha affidato a Sorical, fatto uscire dallo stato di liquidazione e diventato a capitale interamente pubblico, tutte le fasi del ciclo dell'acqua, dalla grande adduzione fino ai rubinetti delle case, compresa la riscussione delle bollette e la depurazione per 30 anni. L'affidamento è stato deliberato dopo che il Consiglio regionale ha approvato una modifica alla legge sugli investimenti in Sorical, prevedendo l'entrata dei comuni nella società a cui dovrebbero andare gratuitamente quote azionarie per un massimo del 40%.